per la realizzazione delle illustrazioni san giorgio contro il virus mi sono voluto ispirare a delle pitture classiche dei due santi san giorgio e santa margherita per la tavola dal titolo la battaglia mi sono ispirato a uno storico santino di san giorgio intitolato san giorgio il martire per la tavola santa margherita mi sono ispirato al dipinto santa margherita di antiochia di francesco barbieri dipinto del 1644 l'ultima tavola della storia è quella dell'abbraccio il momento in cui san giorgio finalmente riabbraccia la sua amata santa margherita questa tavola ispirata al dipinto il matrimonio di san giorgio e la principessa sabra del pittore inglese d'unter gabriel rossetti nel 1857 questo dipinto si ispira all'originale leggenda di san giorgio cui san giorgio salva la principessa sabra delle griffe del drago che terrorizzava la città